ciao ragazzi allora dopo anni che uso sistemi di giunzioni come le spine a tasca o di incastri ho deciso anche io di adeguarmi un pochino per velocizzarmi più che altro i miei lavori perché le spine richiedono una grandissima precisione e pertanto con questo sistema vado veramente ad abbreviare i tempi andiamo a fare questo unboxing insieme lo vedete ancora pellicolato quindi ce andiamo a vedere insieme vediamo di che prodotto si tratta quali sono i suoi utilizzi e ne facciamo un piccolo resoconto finale chiaramente come sempre come in tutti i miei unboxing per un giudizio totalitario si dovrà aspettare qualche mese che la utilizzo per adesso ce l'andiamo ad aprire allora ragazzi mi avvicino come sempre con la telecamera andiamo a vedere quando è aperta cosa troviamo all'interno allora al suo interno troviamo partiamo dalla parte alta la chiave tipo quella della smerigliatrice che serve a togliere e rimettere il disco da taglio che andremo a vedere in seguito libretto di istruzioni in varie lingue il sacchetto per i trucioli con comoda molla da un lato e oltretutto zip dall'altro per lo svuotamento dei trucioli all'interno troviamo anche un'asta che ci permetterà di tenere rigido il nostro sacchetto dopo di che senza tanti fronzoli troviamo la nostra biscottatrice o lamellatrice e non è poco la sua valigetta rigida per portarcela ovunque come avrete potuto vedere all'interno della confezione non ci sono questi che sono i biscotti questi che ho acquistato quindi a parte sono dei biscotti in faggio compressato perché faggio compressato ragazzi perché essendo un materiale compressato a contatto con l'umidità come può essere chiaramente nel nostro caso quella della colla si vanno gonfiare ad espandere questo permetterà un sistema di fissaggio estremo in questa confezione che ho acquistato e se volete mi piacciono troverete il link sotto in descrizione sono di tre diverse misure che vengono chiamate p 0 p 10 e p 20 p 0 è la più piccola p 10 intermedia più 20 la più grande come si può vedere c'è scritto anche al centro di ogni biscotto un'altra precisazione che vorrei farvi i biscotti sono tutti quanti da 4 mm di spessore ma ho scoperto che non sono tutti uguali come lunghezza dipende dalla casa svariano di qualche millimetro quindi quando è andata a comprare lo spessore è sicuro ma non la lunghezza parliamo di millimetri di differenza ragazzi e non di centimetri ma adesso torniamo alla nostra lamellatrice ce l'andiamo a vedere più da vicino allora ragazzi stiamo parlando della biscottatrice della e nel più precisamente della tcbj 900 partiamo dall'etichetta che ci dà subito delle caratteristiche è una macchina che lavora 230 volt i nostri 50 verse potenza 860 watt 11.000 giri al minuto a vuoto il disco di taglio è un diametro 122 mm e il foro 3,8 mm e il suo spessore proseguiamo bottone di accensione basterà tirarlo avanti lui si blocca premiamo si sblocca con tanto di disegnino maniglia che può essere regolata grazie a queste due brun una e due quindi può essere tirata su e giù corpo in alluminio presso fuso il resto del corpo è in plastica rigida se lo vedete bene è in pratica è lo stesso identico motore di una smerigliatrice di un flex qui davanti possiamo notare questo meccanismo dove si hanno queste due manopole una servirà una volta svitata a tirare giù questa mascherina che ci servirà come battuta quando andremo appoggiare la nostra biscottatrice per forare mentre quest'altro boloncino una volta svitato ci tirerà su e giù la mascherina su e giù in base a questa scala graduata che potete vedere che va da 0 a 35 mm quindi possiamo usarla su spessori fino a tre centimetri e mezzo con la battuta chiaramente da quest'altra parte c'è un'altra scala graduata questo è un goniometro che ci permette di inclinarla anche a 45 gradi 90 gradi insomma qualsiasi grado noi vogliamo qui sopra in testa come tutte le smerigliatrici quasi tutte ha un bottoncino che ci servirà a bloccare l'albero motore per poi svitare qui sotto il nostro disco visto che ci siamo ce lo andiamo anche a vedere quindi ci rimuoviamo questo cartellino che pensavo dalla foto fosse in plastica e invece non lo è è una lamiera semplicissimo una volta svitata dalle quattro viti sotto come vi dicevo troviamo il tastico disco delle smerigliatrici che ci blocca il il disco per l'appunto scusate il ripetersi delle parole e questo è il disco che andrà a forare per la nostra biscottatrice da diametro cento quindi dicevamo si spinge si preme il bottoncino una volta premuto il bottoncino si va a ruotare fino a che non sentiamo che si blocca l'alberino fatto questo ci andiamo a prendere la nostra bella chiave e ce lo andiamo a svitare quando ci serve ragazzi non mi era accorto che c'erano degli o-ring quindi facciamo attenzione quando andiamo ad aprire per fortuna non le ho perse ce lo andiamo a rimettere in sede richiudiamo il nostro carter e proseguiamo con il nostro recension test ragazzi proseguendo sempre da sotto troviamo queste tre righe che stanno ad indicare esattamente la larghezza del taglio infatti se noi tiriamo lì fuori la lama possiamo vedere che il dente che effettua il taglio passerà esattamente sulla linea rossa e chiaramente questo al centro è la parte centrale che servirà a noi per unire le due tavole poi ce l'andiamo a vedere insieme dopo di che troviamo l'attacco per il nostro sacchetto trucioli qui al lato possiamo vedere questa manopola in plastica nera dove ci sono queste indicazioni 0 che sta per lo 0 del biscotto 10 il biscotto medio 20 il biscotto grande m sta per massimo allora in pratica queste graduazioni faranno in modo e maniera ecco permetterà non pratica alla lama di fuoriuscire un centimetro ipotizziamo con lo 0 un centimetro e mezzo con il 10 due centimetri con il 20 con la m ipotizziamo due centimetri e mezzo quindi è in base alla nostra grandezza dei biscotti che dobbiamo andare ad utilizzare dopo di che cavo con spino asciugo da un metro e mezzo ragazzi mi stavo scordando di farvi notare questa vite con dato che va a contrasto è questa la vera e propria battuta che va a toccare questa manopola che abbiamo detto poc'anzi quindi in pratica la fuoriuscita ce la possiamo andare anche a registrare noi manualmente notoria dovrebbe essere fatto già dalla casa poi andiamo a vedere ragazzi spero e penso di avervela descritta tutta adesso passiamo al lato pratico quindi andiamo a aggiuntare queste due tavolette ho preso il multistrato perché sono di ugual misura sono sicuro che andranno a combaciare perfettamente anche per farvelo capire meglio a voi quindi ragazzi me li vado a serrare qui sul bancone e vi faccio vedere come andarci a forare per questo spessore vado ad utilizzare il biscotto numero 20 lo spessore del legno che sto andando ad utilizzare è da 25 millimetri ragazzi quindi ragazzi ipotizziamo che dobbiamo accoppiare queste due strisce di moltistrato esattamente l'una a fianco all'altra cosa dobbiamo fare ci prendiamo una nostra squadrita ce lo andiamo con una matita a segnare diciamo la metà io metterei un biscotto ogni 20 centimetri credo dovrebbe andar bene quindi su una tavoletta del genere ipotizziamo sia al centro per il nostro scopo adesso non mi serve farlo però perfettamente al centro ci interessa soltanto capire come fare quindi fatto questo ci andiamo a prendere le nostre due tavolette e ce le andiamo a mettere fissate sul bancone ragazzi una volta che sappiamo i due parametri che conosciamo quindi lo spessore della tavoletta abbiamo detto era 25 ci andiamo a spostare il cursore a 12 e mezzo quindi la metà della tavoletta dopo di che ragazzi ci giriamo la nostra manovella e l'andiamo ad impostare sul 20 altro parametro che conosciamo qui ce l'andiamo ad impostare sui 90 gradi ragazzi in corrispondenza delle linee che abbiamo fatto precedentemente dovrà combaciare la linea di mezzo che è stata stampata sulla nostra mascherina quindi o questa o quella sotto dipende che versione stiamo andando ad utilizzare così di fianco andiamo ad utilizzare chiaramente quella sotto quindi ce le facciamo combaciare ci mettiamo una mano qua davanti andiamo ad accendere la nostra macchina il nostro pulsante dopodiché non rimarrà nient'altro che avanzare la nostra macchina quindi accendiamolo stessa cosa anche su questa facciamo combaciare le due linee mano avanti mano dietro accendiamo la macchina e spingiamo ragazzi questo è il risultato senza fumi senza polvere in giro è andata a finire nel sacchettino e all'incirca dire che siamo sulla metà ma non è importantissimo tanto devono combaciare i due biscotti se non abbiamo toccato la mascherina la distanza è quella ragazzi fatto questa adesso ce la possiamo ad incollare una precisazione dobbiamo fare attenzione che la colla vada a finire all'interno della scannatura che abbiamo appena creato del taglio che abbiamo appena creato proprio perché come vi dicevo prima il biscotto deve entrare a contatto con la colla che con l'umidità si gonfierà quindi pertanto quando si vanno a fare questi incollaggi si deve partire proprio dalla scala natura ci si aiuta ragazzi con un pennellino che io in questo momento non ho comunque l'importante è che distribuiamo per bene la nostra colla fino in fondo ragazzi non badate la colla non messa pochissima stiamo facendo soltanto una piccola prova era solo per farvi capire che serve mettere la colla all'interno della nostra scala natura detto questo passiamo ad inserire il nostro biscotto lo spingiamo bene bene in fondo qui vedete che c'è un pochino di aria è stato fatto esattamente perché una volta che ci andiamo ad incollare la nostra tavola ragazzi la tavoletta non ne vuole sapere di accoppiarsi questo vuol dire che il biscotto non riesce ad entrare completamente quindi doveva fare più foro questo sta a dire che dovrò andare a regolare questa vite ce l'andiamo a fare insieme questa volta ragazzi invece di andare a fiducia ci prendiamo mezzo biscotto in questo modo ci facciamo fuoriuscire il nostro disco e il tagliente del dente dovrà combaciare con la linea che abbiamo appena fatto secondo me siamo anche troppo precisi quindi vado a dare un altro piccolo millimetro così sono sicuro 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 che quando va la colla non dà problemi così il tagliente esce al di fuori della linea grazie alle linee che abbiamo fatto precedentemente posso andarmi a riprendere esattamente i fori ragazzi visto che prima ho avuto un eccesso di fiducia e non è da me questa volta ce l'andiamo a provare a secco quindi vado a mettere il mio biscottino marcato qui all'interno del foro che abbiamo appena fatto il segno della matita non si vede quindi come volevo io la metà e poco più è andata a finire al di sotto della nostra tavola quindi adesso ci possiamo andare ad accoppiare in teoria con successo le nostre tavole come potete vedere le due linee non combaciano questo perché come vi dicevo prima questo sistema ed è proprio il bello di questo sistema ci permette di correggere anche un piccolo errore come questo quindi ce ne andiamo semplicemente a giostrare abbiamo qualche millimetro di gioco perfettamente in linea e perfettamente planare adesso invece vediamo come possiamo fare se dobbiamo mettere questa tavoletta a 90 gradi rispetto a quella sotto quindi dobbiamo fare il nostro taglio per capirci qui sotto al centro ci ripendiamo sempre la nostra squadra la nostra matita ci andiamo a segnare quella che secondo noi è la metà comunque la misura che noi interessa avere diciamo che la metà è questa adesso non facciamo altro che riprendere la nostra macchina ci chiudiamo questa volta la nostra mascherina abbattuta portandola quindi a zero e questa volta andiamo ad utilizzare la linea sotto dovrà combaciare con la riga sia orizzontale che verticale ve la faccio vedere in questo modo la linea orizzontale dovrà stare a filo con la piastra e la linea verticale con la linea rossa esattamente così andiamo a mettere il nostro biscotto come prima grazie a tutti allora ragazzi siamo arrivati alla conclusione quindi facciamo pregi e difetti di questo recension test che non è chiaramente definitiva la mia valutazione se non la provo per almeno qualche mese però un primo giudizio ve lo posso dare la macchina rapporto qualità presso credo che sia tra le fasce hobbistiche assolutamente la migliore è veramente facile da utilizzare è simile ad una smerigliatrice credo che bene o male l'abbiamo utilizzata quasi tutti una smerigliatrice ha in pratica due tre impostazioni capite quelle ragazzi si va a rotazione libera quindi velocissimo l'apprendimento i difetti quali sono stati non è una macchina pronta all'uso come avete potuto vedere anche voi mancavano sia i biscotti nella confezione quindi si devono comprare a parte quindi senza biscotti non si può utilizzare secondo andava registrata quindi probabilmente la casa almeno in questa che arriva da me la casa non l'ha fatto l'ho dovuto fare io in un secondo momento poco male parliamo veramente di due sciocchezze però non è una macchina pronta all'uso ragazzi tutti gli accessori che vi ho mostrato quindi biscotti e lamellatrice vi lascio i link per acquisto nel primo commento e sotto in descrizione come sempre ragazzi se vi è piaciuto il video un bel mi piace iscrizione al canale vi ricordo come sempre che mi trovate su facebook e su instagram e io ragazzi come sempre vi do appuntamento al prossimo video un salutone ciao